Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano arriva da un prate in periferia che va avanti nonostante il Vaticano Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo Io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare Quelle cose che va, queste cose che viene e che va Quello è quello che viene e che va Grazie a tutti.